Buongiorno, lunedì 29 aprile, lunedì 29 aprile, 7-10 minuti, Crystal Radio in diretta qui sugli FM 96.2, sul Dab Plus, sull'applicazione per iOS Android, sul sito internet, insomma questo è Good Morning Milano. Ben ritrovati a tutti e a tutte, come state? Con un altro weekend, weekend semilungo per alcuni, iniziato con il ponte del 25 aprile. Questa settimana comunque teniamo conto di una cosa, non disperiamoci perché anche questa settimana sarà settimana corta, mercoledì primo maggio vacanza e anche noi, devo dire la verità, ce ne stiamo un po' approfittando, anche noi il primo maggio non saremo in onda ma poi basta, con quel punto sono finite le vacanze, poi da qui andiamo avanti fino a giugno senza problemi, senza mai fermarci perché tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 sapete che siamo qui a raccontarvi un po' la cittadinanza. Milano con tanti ospiti, anche oggi avremo degli ospiti in collegamento con noi, alcune volte in collegamento, altre volte vengono anche qui a trovarci, la settimana scorsa abbiamo avuto tanti ospiti qui in studio con cui chiacchierare, ma soprattutto i protagonisti potete essere voi, anzi gli ospiti principali. Siete voi 3317853555 il numero di whatsapp a cui potete scriverci per raccontare o il weekend passato oppure quello che avete in programma per questa settimana, per questa giornata, per questo lunedì 29 aprile. Buona giornata a tutti, si inizia musica! Gaia, Dea Saffica, sempre alle 7 e 14 minuti qui su Crystal Radio, ben ritrovati, ben tornati, anzi grazie mille dei whatsapp che stanno arrivando, è arrivato un whatsapp, vedi a volte ritornano, eh sì Adriana ci scrive Buongiorno Fabio, mi era mancato ascoltarti e poi sotto grande festa, cos'è quella cornocopia che da qui escono, non ho mai capito cosa è sinceramente quel, quel cono da cui escono coriandoli, non ho mai capito bene cosa è un, un cono di coriandoli, non so, vabbè comunque bentornata a te Adriana, allora, ha cambiato l'autoradio, ho cambiato molto probabilmente per quello, adesso ci riascolta, no? Vi ricordo sempre che potete ascoltarci con l'autoradio sia sull'FM96.2 ma anche sul DAB+, quella roba lì digitale e moderna che ci sono nelle radio moderne e un saluto anche ad Alberto che ci scrive, un saluto a Fabio e a tutti i cristallini in ascolto, un'altra settimana spezzata che si apre dopo i bagordi nero-azzurri di ieri, attenzione questa mattina per le strade perché c'è chi è andato a letto tardi, c'è chi non è ancora neanche andato a letto, secondo me avevano sperato in questa cosa di fare la festa la domenica così la gente andava via presto in realtà tutta notte festeggiamenti, anzi andiamo a leggere anche dai giornali appunto Repubblica Milano che, mi piace Repubblica Milano che fa le live testuali, no? quindi la pagina live, c'è un pulsante rosso, rimane accesa durante tutto il giorno, hanno iniziato ieri la live intorno alle 4 del pomeriggio, credo se non prima ancora, guarda se ve lo dico subito hanno iniziato alle 10 pensate, alle 10 di ieri mattina spiegando tutto, poi mezzogiorno con la partita, poi hanno fatto tutta la live e tutto qual è il problema? Che tutte le volte che fanno la live la domenica o il sabato si dimenticano di spegnerla e quindi alle 21.54 hanno lasciato aperta questa pagina, diciamo live, con scritto tutto ma poi non ci sono più aggiornamenti e quindi schiacciate fine live almeno, è stato in live, non so come dire comunque leggo da Repubblica Milano, festa Scudetto Internet con 100.000 tifosi Repubblica dice 100.000, Corriere dice 200.000, è il doppio, ve lo dico, è il doppio cioè se siamo in 10 o siamo in 20 cambia, non so come dire, però vabbè 100.000 tifosi che cantano nelle strade, partita la grande parata appunto perché era in live, poi dirette le celebrazioni da San Siro a Piazza Duomo alle 21.54 ieri sera Piazza Duomo strapiena che attende l'arrivo dei bus dell'Inter, quindi ancora alle 10 non erano ancora arrivati in Duomo hanno fatto un giro lunghissimo, sono passati praticamente ovunque scende, sono passati anche i fuochi d'artificio durante la giornata, sono arrivati a Porta Nuova i Pullman dove sono passati sotto la sede dell'Inter, insomma tutto un giro città paralizzata, posso dire, allora a me sapete quanto me ne frega del calcio praticamente nulla, però ci sta dai, cioè secondo me a un certo punto ieri siamo anche usciti un secondo qua in zona ed era tutto ovviamente paralizzato, però era una paralisi bella dai vedere festeggiare i milanesi ci sta, cioè adesso a prescindere dal colore che vince per me, poi so che per voi invece è importante però secondo me è stata una bella festa, questi due Pullman ormai che giravano per la città hanno fatto un giro lunghissimo, sono passati da Corsempione sono passati appunto dai Bastioni, poi sono passati da Porta Nuova appunto sotto la sede dell'Inter per poi arrivare dopo le 10 di sera in Duomo anche se comunque ad esempio Zanetti era già lì sulla terrazza poi esce, hanno fatto comunque davvero una grandissima festa 200.000 persone secondo il Corriere della Sera 100.000 secondo la Repubblica comunque beh, speriamo che non ci siano dove li hanno posteggiati gli autobus? sono posto? no, andiamo a sentire se c'è traffico ancora, dai luce verde questo era Calvin Harris insieme a Rag & Bone Man alle 7.20 minuti abbiamo parlato del Pullman dell'Inter abbiamo parlato della grande festa dell'Inter dei due Pullman dell'Inter beh, su Corriere della Sera Milano ci sono altri Pullman di cui parlare parliamo di Lampugnano leggiamo da Corriere della Sera Milano Lampugnano, degrado al terminal dei bus rifiuti, bagni inospitali e zero vigilanza i turisti stupiti di essere a Milano denunciato, direi per l'ennesima volta lo stato di abbandono e insicurezza lettera del comune all'azienda privata che dovrebbe gestire l'hub i residenti dicono i viaggiatori spesso derubati diamo ospitalità alle madri che viaggiano con i loro figli una sera di qualche mese fa, c'è un virgolettato ho accolto a casa una ragazza con un bimbo piccolissimo aveva bisogno di scaldare il latte nel berone non sapeva come fare era tardi, quasi mezzanotte cosa dovevo fare? questo è quello che dice esempio Mirella Tedeschi 64 anni che da quando si è sposata vive in un palazzo in Via Trenno che è proprio di fronte al lab e guarda con preoccupazione a quello che succede appunto nel lab degli autobus di Lampugnano prosegue così l'articolo del Corriere della Sera dicendo in effetti basta guardarsi intorno in questa stazione che pure in pieno giorno non dà altra idea che quella dell'abbandono rifiuti lasciati a terra a ogni angolo bagni a pagamento inutilizzabili e da cui esce un odore che si sente a decine di metri di distanza sala d'attesa piccola e con un solo bar fuori dalla stazione poi il nulla tra le iuole usate come giacigli o peggio come bagni pubblici c'è anche un quadro elettrico lasciato a se stesso chiunque passi può aprirlo, toccarlo, farsi male, manometterlo insomma qui nessuno controlla nulla qui nessuno controlla nessuno abbiamo parlato spesso e volentieri di questa situazione una situazione davvero di degrado che oltretutto non dà proprio l'idea di città che dobbiamo dare perché insomma è qualcosa che cioè la gente arriva a Milano si aspetta a Milano la città della e quello è il concetto qui ci sono turisti che vengono a Milano perché gli autobus per noi sono lo sposta poveri diciamoci la verità questa nostra arroganza milanese che l'autobus è lo sposta poveri ma non è solo così perché ormai con gli autobus soprattutto dall'Europa soprattutto dalla Germania dalla Francia insomma ci arriva chiunque non ci arrivano solo i disperati non ci arrivano solo quelli che ecco tornando la famiglia vanno di là quelli che vanno alle no non è così si sposta veramente chiunque o meglio si sposterebbe chiunque se ci fosse una situazione un po' migliore non dico proprio idilliaca mi è capitato spesso di vedere a stazione degli autobus ne porto una su tutte Bratislava Bratislava ha una stazione degli autobus che è qualcosa da fare invidia a Malpensa cioè è un aeroporto sembra una roba super moderna super accessoriata per me da dire bar luci sempre accesa sempre controllo c'è tanta gente che mai che viene poi lo sappiamo che insomma le stazioni stazioni dei treni stazioni degli autobus sono sempre dei luoghi un po' particolari cioè intorno la fauna diciamo è sempre quella un po' particolare però si può fare qualcosa anche Alberto ce lo dice al 3317853555 che dice è vero il termine degli autobus di Lampugnano è vergognoso piuttosto che arrivare lì preferisco scendere a Sesson Giovanni ecco vedete ad esempio c'è gente che ha trovato un escamotage ma pensate cioè dobbiamo trovare da noi escamotage dobbiamo trovare noi il modo di cambiare in modo che non arriviamo in quel luogo a meno e maledetto che è il termine degli autobus di Lampugnano no dai davvero bisogna riuscire a trovare una soluzione e anche il comune insomma comincia a far sentire la sua voce perché dice non esiste non esiste comunque questa è la situazione a Lampugnano se ci siete stati raccontatecelo diteci come è andata per voi poi c'è anche il discorso del postage che chiude prima chiude all'orario in cui gli autobus arrivano dopo quindi se voi lasciate la macchina lì non potete riprendervi la macchina quando arrivate di notte ad esempio un'altra bella genialità di questo terminal beh balliamo balliamo perché è quello che ci rimane ballare Tiziano Ferro stop dimentica 7 e 35 minuti lunedì 29 aprile ancora qui su Crystal Radio Good Morning Milano continuate a andare in giro per la città e lo so benissimo la storia di Lampugnano ha scatenato Alberto che ci sta mandando un po' di Whatsapp allora andiamo a leggerli Alberto dice adesso pensate che alcune linee turistiche hanno cambiato orari e fanno arrivare e partire il bus da Lampugnano tra le 10 e le 16 evitando appunto orari pericolosi sì dopodiché comunque quel posto fa schifo alle 4 del mattino alle 3 di notte fa schifo quanto alle 3 del pomeriggio cioè su quello devo dire che è perfetto a Lampugnano non ci sono i taxi di sera perché anche i tassisti hanno paura fermarsi lì questa l'avevo già sentita l'avevo già letta e anche i tassisti avevano fatto tutto avevano scritto una roba così sì non sono pochissimi i taxi di sera non che tutta Milano ci siano tanti taxi dopodiché a proposito per i taxi allora scaricate l'app allora ho scoperto questa cosa qua basta telefonare per i taxi cioè forse sono arrivato tardi non so molti di voi dicono eh Fabio ci sei arrivato adesso sveglione eh sì ci sono arrivato adesso mi sono accorto che questo cioè se voi chiamate tra che ogni 3x2 è occupato il numero di taxi qualsiasi non a volte mi sento risposto non ci sono taxi disponibili invece con l'app è un attimo io l'altro ieri avevo bisogno di un taxi qua in redazione per degli ospiti che dovevano andare via in 3 minuti abbiamo trovato il taxi subito ed è arrivato passavo di qua ho girato e sono arrivato subito cioè quindi davvero ehm scaricatevi le app dei taxi niente così volevo dire una roba sui taxi ehm la situazione di Lampugnano comunque effettivamente è quanto allarmante eh ci sono tante state tante tante notizie appunto in questi mesi che continuano a raccontare anche come davvero anche il comune sta cominciando a chiedere conto a chi deve gestire quella zona dicendo ma quindi cosa succede però mi viene da dire caro comune occio non è che bisogna sempre dare la colpa però a chi gestisce le cose nel senso che quella situazione lì cioè ti affermate la metro è roba vostra ad esempio e fa schifo il piazzale intorno è vero che viene gestito da quello ma è suolo comunale e fa schifo eh soprattutto poi siete voi che fate i bandi per quelle robe lì cioè non è che eh nel bando non penso avete messo chissà cosa e quindi la gente non mette chissà cosa cioè è questo il dramma quindi è vero che i gestori vanno cazziati quando c'è bisogno di cazziarli è vero che vanno tirate la giacchetta quando serve tirare la giacchetta è vero anche che adesso tirano la giacchetta però anche al comune nel senso che dico ragazzi cioè il posto è vostro è un hub comunale anche lì troviamo ci sono dei player internazionali che lo fanno questo lavoro com'è che noi troviamo sempre quelli che non sanno fare le cose non ci credo dai cioè anche lì secondo me c'è qualcos'altro dietro c'è qualcos'altro dietro nel senso che c'è qualcosa nella struttura e nella gestione di quella struttura che non funziona evidentemente perché è sempre facile dire sempre sono gli altri che non sanno fare le cose sono dei mascalzoni sono gente che non è capace in qualsiasi cosa noi facciamo il pubblico dal privato poi il privato non fa quello che ci aspettiamo e allora la colpa è sempre del privato e non è proprio sempre sempre così cioè poi ci sono quelli che si approfittano ci sono quelli che vanno a ribasso sicuramente quello è sicuramente esiste quella parte lì però insomma cerchiamo anche di fare in modo che il pubblico possa lavorare seriamente con dei privati seri e si lavori insieme però poi bisogna lavorare insieme appunto non lavorare ognuno per i fatti suoi Lampugnano è un po' davvero disarmante soprattutto se la porta pensate che la porta d'ingresso a Milano per tantissimi turisti che arrivano qui magari convinti di andare nella città della moda hanno magari già dei biglietti della scala nella tasca devono andare all'opera e tutto però poi arrivano e trovano quel degrado assoluto assurdo assoluto e assurdo che si trova appunto nel lab di Lampugnano questo è quanto comunque se non siete della zona fateci un giro è interessante diciamo magari fatelo di giorno che è meglio però e niente questa storia di Lampugnano oggi vi sta prendendo bene devo dire perché anche Adriana al 3317853555 ci scrive sono partita più volte negli anni da Lampugnano e gli autisti stessi degli autobus ti intimano di avere mille occhi pensate lo sanno già anche loro quindi pensate che nomea c'è in Europa della nostra stazione degli autobus di Lampugnano poi sicuramente ci saranno delle stazioni peggiori da qualche parte nel mondo sicurissimo però questo non c'entra comunque noi siamo su Crystal Radio questo è Milano Milano non è solo Lampugnano ma è tanto altro per fortuna Milano si sente qui su Crystal Radio ma si sente anche tanta buona musica e soprattutto dopo di noi alle 9.05 si sente la musica di Senti Questa con Ambrogio Curti che che cosa ci farà sentire questa settimana beh lo sappiamo direttamente da lui perché adesso ci colleghiamo con lui per chiedere appunto un po' un sommario che cosa succederà questa settimana nella bellissima ora che ci segue di Senti Questa e allora Ambrogio raccontacelo tu e Senti Questa grazie mille grazie mille Ambrogio che canzoni stavo ragionando stavo pensando adesso una cosa interessante sulla nostra rubrica del lunedì di Senti Questa sul nostro indice che diamo lunedì è il momento Shazam se ci pensate perché lui vi fa sentire delle canzoni davvero che difficilmente sentite in radio perché Ambrogio va a cercare va a ravanare va a scavare nei suoi vinili e trova le cose belle da farvi ascoltare voi tac vi attaccate lo Shazam questa ce l'ho questa ce l'ho questa è la giungola così che poi dopo dopo aver ascoltato Senti Questa dopo non siete in giro non siete tutta la doccia o così e volete ascoltarvele avete già tutta la vostra bella playlist fatta quindi grazie ad Ambrogio Kurti per l'ottimo lavoro che fa e il servizio servizio che fa tutti noi per darci degli spunti musicali che non sono niente male e soprattutto non sono scontati e questa è la cosa interessante della musica che Ambrogio mette a Senti Questa che comunque con le 9.05 dopo la nostra diretta dopo il giornale radio potete ascoltare in diretta qui su Crystal Radio tutti i giorni guardate mi sbilancio ma tanto credo che sia così secondo me va anche il primo maggio conoscendolo secondo me noi facciamo vacanza ma lui no perché se so e conosco Ambrogio per quello che lo conosco lui stacca sempre e laura sempre è sempre lì pronto a produrre le sue puntate a raccontarci della grande grande musica lavoro settimana della settimana della festa del lavoro tra parentesi dei lavoratori o meglio che del lavoro della festa dei lavoratori che non era una festa del lavoro è diverso primo maggio ma soprattutto oggi lunedì invece lunedì 29 aprile lunedì e lunedì si inizia la settimana lavorativa quindi quando entrate in ufficio dite buon lavoro ragazzi ciao come andate il weekend buon lavoro ecco è quello che ci dice tutti lunedì anche Filippo Poletti top voice di LinkedIn qui su Good Morning Milano con il suo buon lavoro buon lavoro a tutti la prima parola della settimana è esperienza pensate un po' 390 euro il super minimo collettivo all'anno non assorbibile previsto per i lavoratori che hanno maturato un'anzianità di servizio di 5 o più anni super minimo che arriva a 600 euro per i lavoratori che hanno un'anzianità di servizio di 22 o più anni chi lo prevede lo prevede il nuovo contratto di Itachi Rail STS per i 4400 dipendenti dei 6 siti produttivi italiani esperimento da seguire con attenzione perché sul lavoro conta anche l'esperienza la seconda parola chiave della settimana è inclusione bellissima notizia arriva da The Fork il sito che appunto segnala i ristoranti al primo posto pensate un po' è arrivata Pizza Hut la pezzeria gestita da ragazzi autistici che ha sede a Monza e pensare ha commentato il fondatore Nino Acampora che all'inizio di questa avventura ci avevano detto che non sarebbe mai stato possibile realizzare una pizzeria gestita da ragazzi autistici Forza Pizza Hut per chi non è ancora andato a provarla vada a provare questa pizzeria e forza 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 inclusione nei posti di lavoro la terza e ultima parola chiave della settimana è APE al lavoro ci vado con la mia APE chi l'ha detto l'ha detto la prof di lettere del liceo classico Sarpi di Bergamo Letizia Pagliarino assimilato a una moto l'APE può transitare ovunque molti commenta la prof esibiscono l'auto come uno status simbol ma non è così per me ho scelto di adeguare il mezzo alle mie necessità dunque caro vita nuove idee per affrontarlo e allora buon lavoro buon lavoro a tutti e visto che la settimana del primo maggio buona festa dei lavoratori a tutti l'orella cuccarini la notte vola questo era il cristal history delle otto qui con noi su good morning milano sempre in diretta su cristal radio 96.2 fm da blasi milano news sul web anzi 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 il nostro prossimo ospite potreste anche vederlo appunto su milano news ebbene si diamo il benvenuto forse per la prima volta anche svela il suo volto adesso glielo chiederemo a velocipiedi buongiorno velo buongiorno ciao prima volta che mostra il suo volto ecco voi velocipiedi che scopriamo essere quindi anche giovanissimo il volto non tradisce con la voce si poteva pensare di anche se era facilmente comprensibile che sei molto giovane il volto non lascia adito a dubbi per noi lo sai velocipiedi per noi sei velo cioè ormai abbiamo deciso che mai sei così torni a ritrovarci torni a ritrovarci perché perché stai facendo parlare di te o meglio stai facendo molto molto parlare tanti giornali tutti praticamente di una bella idea e proposta che hai avuto che si chiama REC giusto? esatto è una proposta che attualmente sto sviluppando insieme a dei miei amici con cui gestisco la pagina l'idea è quella di proporre una rete ciclabile per la città di Milano per il territorio comunale di Milano per andare a completare diciamo la rete che è già prevista della città metropolitana quindi la città più estesa di Milano ok e quindi l'obiettivo è quello di incentivare più persone ad usare la bici come mezzo di trasporto l'idea della REC appunto è quella di andare prima di tutto ad unire anche punti che ci sono già ciclabili che però poi finiscono nel nulla e quindi ci basterebbe completarle per creare delle vere proprie linee ecco perché l'idea della REC è appunto che ci sono proprio delle stotte di linee come fosse quasi una linea di metropolitane una rete ferroviaria cioè proprio ci sono delle linee che vanno a dividere la città cioè proprio a collegare le varie zone poi verso l'esterno o verso l'interno giusto? Esatto abbiamo ricalcato principalmente le linee di metropolitana e di tram più importanti perché riteniamo importante che ci sia una copertura dei principali assi strevali della città perché è anche lì dove ci saranno più ciclisti per conseguenza e è anche un aspetto diciamo identitario perché i milanesi in generale conoscono le metropolitane e spesso si orientano in città grazie alla metropolitana quindi spostandosi in bici lungo lo stesso tracciato delle metropolitane diventa un po' intuitivo è conosciuto intanto le persone conoscono il percorso sono nove linee più tre circolari mi sembra ho letto male o sono ancora di più no dieci dieci scusa dieci dieci linee più tre circolari tra prendersi con una soluzione del genere riusciremmo a fare quello che a Milano non avremmo mai avuto che è la linea la circle line vera e propria che perché effettivamente pensare di farla solo di metropolitano solo di treno si potrebbe pensare di farla di bicicletta cioè nel senso il concetto è quello dove hai trovato lo spunto per questa idea per la REC in generale guardando ad altre città d'Europa in particolare Parigi che conosco abbastanza bene appunto l'idea è letteralmente la stessa di Parigi perché a Parigi hanno fatto tutto sul tracciato delle metropolitane l'idea comunque generale viene dai paesi bassi e in generale dai paesi di nord Europa che hanno capito che il modo migliore per incentivare le persone ad usare la bici è creare una rete continua sicura che permetta di raggiungere i principali punti di interesse di una città e quindi che permette di spostarsi in città in modo sicuro in modo facile e conveniente perché è tutto una questione anche di delle qualità delle piste ciclabili stesse e del diciamo della continuità di tutte queste ecco perché quello tu su questa cosa spesso arrivai a toccare il tema cioè il problema non è fare una pista ciclabile e fare le piste ciclabili collegate tra i loro cioè i tratti non devono essere i tratti proprio ti lasciano nel vuoto ma devono essere collegati e questo quindi che limita la mobilità ciclabile in questo momento nella nostra città sì principalmente è questo in particolare alle intersezioni che è il luogo dove avvengono la più parte degli incidenti spesso si vedono piste ciclabili interrompersi prima e poi riprendere dopo lasciando completamente sprovvisi di protezione i ciclisti e questo ovviamente frena innanzitutto i ciclisti ad usare la bici ma frena appunto anche altre persone esterne ad usare la bici quindi non giova a nessuno questa situazione e appunto noi dobbiamo risolvere questi punti più pericolosi chiaro anche se poi dopo bisogna stare attenti alle varie polemiche sterili che nascono intorno agli incroci tipo Monforte ricordiamo dove la gente ha tirato su una polemica tutta inutile sulle strisce per terra sì no rosse no tratteggiate sembra il tetris insomma un po' di tutto Velo rimani con noi andiamo con un po' di musica e poi torniamo perché voglio capire soprattutto se ti aspettavi tutto questo successo e tutta questa chiacchiera intorno al tuo al tuo progetto perché davvero ne sta parlando chiunque quindi voglio capire se ti aspettavi tutto questo e anche capire quando è iniziata questa tua fantasia che ormai è diventata un po' più reale è sempre un sogno da quanto ho capito però comunque è un po' più reale quindi insomma molto interessante tra poco ancora qui con Velocipiedi adesso andiamo invece con Calcutta con Paracetamolo e questo era Calcutta con Paracetamolo alle 8 e un quarto di oggi lunedì 19 scusate 29 aprile non 19 29 aprile siamo a fine mese e stiamo parlando con Velocipiedi in collegamento con noi appunto dopo la sua idea proposta della REC che ha insomma fatto tanto tanta notizia te lo aspettavi velo tutto questo chiacchierare intorno alla tua idea della REC che non abbiamo detto essere la rete ciclabile espressa così l'hai chiamata giusto? sì esatto mi aspettavo un bel po' di chiacchiericcio perché in particolare diciamo questi temi sono spesso molto polarizzati molto polemici perché c'era gente che faceva polemica sul fatto che questa rete di piste ciclabili andrebbe a togliere spazio alle macchine che andrebbe a creare più inquinamento che insomma diverse teorie varie di quello che potrebbe avere come conseguenze scusa velo qual è la teoria dietro il quale una rete di piste ciclabili porta più inquinamento com'è che funziona questa cosa com'è che è stato detto no ma non non credo sia ah ok le trovano tutte pur di smontare l'idea ok perfetto ok chiaro volevo capire qual era l'idea che c'era dietro appunto ne hai parlato tanto ma soprattutto tu ha delle polemiche hai risposto anche con dei render molto interessanti perché hai dimostrato come in realtà è fattibile in certe situazioni no? esatto cioè innanzitutto vorrei chiarificare che tutta la rete fa parte del Pums che è il piano urbano della mobilità sostenibile e quindi sono tutte opere che verranno realizzate prima o poi il punto appunto questo prima o poi ok noi vogliamo spingere affinché sia sempre più prima che poi e vogliamo che il comune inizi già da ora nei prossimi mesi anni a progettare e realizzare queste piste ciclabili con delle soluzioni che chiamiamo tattiche vuol dire invece di spendere più soldi e più tempo a creare piste ciclabili in struttura con dei cantieri quindi che occupano molto tempo fare degli interventi come in corso Buenos Aires installando dei blocchi in pochi mesi mettendo della pittura che comunque riescono ad essere sicuri e allo stesso tempo economici ok appunto abbiamo fatto questo render su Via Farini che mostra come potrebbe svilupparsi una prima fase tattica e una seconda in struttura e perché appunto l'idea è quella di fare prima una fase tattica poi si parte si passa alla fase strutturale cioè una tattica serve anche per capire dove magari andare a migliorare le cose immagino giusto nel senso che poi spostarlo un blocchetto di cemento lo sposti senza problemi con anche la linea colorata andare a scavare rifare mettere perché poi fa vedere anche l'esempio che potrebbe diventare anche un Via L'Alberato Via Farini hai fatto questa idea giusto? l'ho visto bene esatto e quindi in generale progettare in questo modo l'abbiamo preso un pochino da Parigi perché loro hanno sostanzialmente hanno costruito la loro rete dopo il covid certo c'era qualcosina costruito prima grazie appunto a delle ciclabili tattiche che poi hanno molto rapidamente convertito in struttura e dove l'hanno messa la macchina i parigini come è stata la questione parcheggi perché questa è un'altra delle questioni che ti tirano fuori spesso no? ma se metti la ciclabili ti arrivi a posto per le auto allora innanzitutto Parigi aveva già meno parcheggi meno auto in generale che Milano questo è sicuro le macchine in generale le persone quando vedono che diminiscono i parcheggi alcune persone si arrabberanno è ovvio perché dovranno camminare di più per esempio per parcheggiare la macchina più lontano altre persone invece inizieranno a questionarsi su se la macchina è utile quello che chiamiamo domanda indotta quando si aggiungono parcheggi nuove persone compreranno la macchina per parcheggiare in quei parcheggi invece si tolgono parcheggi anche se può sembrare illogico il numero di macchine diminuirà perché le persone inizieranno a venderla oppure a noleggiare su brevi termini al posto di avere due macchine ne avrà una ci sono tantissimi modi per diminuire il numero di auto e togliere parcheggi purtroppo è quello meno più controverso però è anche purtroppo un'unica opzione perché lo spazio pubblico è spesso rubato da parcheggi e non c'è altro modo di fare infrastrutture ciclabili su questo tema spesso ci torni nel senso che tu dici mi sembra di aver letto anche se non sbaglio poi se mai correggimi nei tuoi vari post su velocipiedi anche che bisogna avere anche il coraggio a volte soprattutto chi ministra questa città di dire dobbiamo decidere cioè la strada se è veramente di tutti non può essere solo delle macchine quindi deve essere anche delle biciclette spesso vengono dire anche dei pedoni nel senso che bisogna anche fare il conto che ci si può muovere tranquillamente a piedi manca il coraggio a livello politico quindi per fare certe scelte? sì assolutamente è proprio quello che manca perché se no credo che non avremo neanche bisogno di fare questo progetto di rete perché avrebbe già dovuto farlo al comune ma perché il problema in generale non è il problema dei tecnici che non riescono a fare piste ciclabili perché bisogna togliere parcheggi il problema proprio politico del fatto che non si vogliono togliere parcheggi ad esempio e quindi tutto il punto sta nel comunicare nel modo giusto alle persone gli impatti che potrebbe avere un'infrastruttura del genere e quindi convincere le persone è interessante che ci scrive Nello al 3317853555 che dice giustamente dice l'idea diffusa è che un traffico più statico ottiene per più tempo motori accesi quindi appunto poi diventa anche inquinante mentre l'idea reale della ciclabile è quella di incentivare l'uso della bici non è solo disincentivare l'uso della macchina o meglio dar fastidio alle macchine infatti dice ma oggi purtroppo viene ancora vista come un fastidio sia la ciclabile sia il ciclista effettivamente succede questo che l'idea della ciclabile è più fastidiosa che altro non si vede a lungo termine mi sembra di capire sì di sicuro questo secondo me è in grande parte dovuto al poco numero di ciclisti che vediamo attualmente a Milano perché nelle città dove ci sono tanti ciclisti questi problemi diciamo non sono non sono così accentuati a Milano se costruisce una pista ciclabile subito andranno a gridare che è per quattro gatti e che nessuno le utilizzerà anzi si dice che la ciclabile poi crea più traffico in realtà perché appunto si stringono le strade cioè quello poi è la polemica che ne scaturisce spesso volentieri e il fatto che molto raramente è così cioè in alcuni casi può essere che le piste ciclabili sono proprio fatte male e quindi ci sono pochi ciclisti ma in molti esempi di fatto se costruisci le piste ciclabili costruisci le infrastrutture i ciclisti verranno il problema è sempre capire e riuscire a comunicare innanzitutto sui numeri di ciclisti che passano perché se la gente non si rende conto di come una pista ciclabile può aiutare il traffico a scorrere continuerà a criticarla perché la vedrà come spazio buttato e così sarà finché non ci sarà una massa una massa critica che faccia capire davvero l'utilizzo delle piste ciclabili velo rimani con noi ancora una canzone poi torniamo qui per salutarci dacci anche tutti i collegamenti e tutti i tuoi link e tutti i tuoi profili social Coez la tua canzone Coez la tua canzone alle 8 e 26 minuti qui su Crystal Radio ancora con Velo Cipiedi Velo hai fatto così tanto parlare di te che a un certo punto adesso fra poco poi mi direi bene quando andrai a parlarne anche in comune giusto della REC cos'è che succede? esatto abbiamo avuto l'appoggio da parte di un consigliere Marco Marzai che ci ha proposto di presentare la REC in commissione mobilità attiva e appunto non abbiamo ancora deciso la data però potrebbe essere una buona occasione per far conoscere il progetto all'interno del comune e riuscire a creare un dibattito perché noi non ci aspettiamo che il comune riprenda il progetto così come lo proponiamo perché ovviamente il comune ha i suoi tecnici ha i suoi modi di fare delle infrastrutture il nostro obiettivo è innanzitutto di appunto iniziare un dibattito e che il comune si decida di agire in fretta su questi su questi fronti quindi di creare una rete ecco questa REC poi potrebbe avere degli sviluppi ulteriori o come la vedi cioè qual è l'idea a lungo te termine della REC a lunghissimo termine ti direi anche quasi non avere più bisogno di una rete perché l'obiettivo finale è quello di avere una massa critica una massa di ciclisti abbastanza importante per appunto considerare questa come proprio un tipo di mobilità e quindi non avere più dibattiti sull'utilità delle piste ciclabili ma semplicemente realizzarle e che sia appunto qualcosa di sempre presente nelle nostre abitudini a ripedere ciclisti il mio obiettivo su lunghissimo termine è quello ci sono anche altri obiettivi perché per esempio usare fare delle piste ciclabili può essere anche l'occasione di magari allargare i marciapiedi piantare degli alberi mettere delle coste preferenziali per mezzi pubblici può essere in generale un miglioramento dell'avviabilità di tutta la città e anche dell'avviabilità quindi degli spazi per commerci e dei spazi a verde Velo ricordaci un po' come fare però a sapere di più sulla REC ma su tutto quello che fate perché davvero fate tantissime cose proponete sempre tantissime cose sui vostri profili social idee e spunti interessanti allora la REC è principalmente comunicata sul mio profilo Instagram che è a veloci piedi appunto su cui appunto faccio una serie di video proprio su questo tema e invece potete ritrovarmi anche magari alle manifestazioni se venite a manifestazioni di strada per tutti di sai che puoi ad esempio o in generale potete sentire in giro perché appunto ci sono altri alcuni giornali che potrebbero intervistarmi ecco cosa interessante appunto è che sul tuo profilo si trovano a volte delle soluzioni foto render disegni insomma le inventate tutte per far capire che si può fare esatto siamo ora siamo proprio concentrati sull'aspetto comunicare per capire fare una campagna di confluggimento attualmente quindi è proprio quello il nostro obiettivo raggiungere persone possibili chiarissimo chiarissimo velo grazie mille allora alla prossima siamo contenti di essere insomma quelli che ogni tanto ci sentiamo qui la mattina per raccontare queste belle idee soprattutto poi ricordiamo che appunto tu sei giovanissimo poi hai un gruppo di altri giovanissimi che ti stanno vicino e con cui fate disfate create no giusto? sì sì esatto siamo tutti insieme in questa pagina anche se gestisco io loro mi aiutano beh dai allora anche speranza per queste famose gen z e sotto che insomma spesso ventieri vengono tanto bistrattate invece vedete che possono fare tanto anche con quel maledetto smartphone profili social faccia così che magari noi boomer ogni tanto consideriamo il male assoluto invece facciamo vedere che insomma possono essere anche un ottimo strumento di diffusione di belle belle idee grazie velo buona giornata allora grazie mille grazie mille a te buona giornata e speriamo appunto di resti di presto con tante tante altre proposte e idee andiamo avanti con la musica grazie ancora a velocipiedi grazie per essere collegato con noi noi invece andiamo avanti con la musica andiamo avanti a raccontare un po' Milano tutto questo dopo una piccola pausa adesso ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità ma poi torniamo sempre qui in diretta con good morning Milano come sempre crystal radio Milano si sente Gali casa mia 8.40 minuti ultimi minuti di trasmissione non prima di portare riportare da Corriere della Sera Milano la protesta che sta iniziando a montare nei municipi o meglio al momento nel municipio 9 leggiamo da Corriere della Sera Milano municipi in rivolta per il blocco degli stipendi agli assessori e al presidente potrebbero dimentersi e manca personale amministrativo appello del municipio 9 al comune per risolvere il caso indennità e stabilizzare gli impiegati per regolare svolgimento delle attività punto più basso del decentramento la prossimità delle istituzioni è decisiva e sì perché è uscita una lettera scritta appunto dal municipio 9 che ha fatto sentire la propria voce perché la situazione è sempre più allarmante nei municipi allora l'abbiamo letto qualche giorno fa per un pasticcio diciamo amministrativo e legislativo soprattutto al momento gli stipendi degli assessori dei presidenti dei municipi sono bloccati cosa vuol dire questo che chi fa l'assessore o il presidente del municipio che molto probabilmente aveva un lavoro ma ha lasciato quel lavoro per fare l'assessore o il presidente del municipio non percepisce stipendio e voi direte vabbè tanti politici sono tutti ricchi non è così perché sono persone normali comuni come noi altri che vorrei vedere chi di voi a fine mese non percepisce lo stipendio è contento sì tanto ma arriverà poi no anche perché questa situazione non si sa quando si sanerà non si sa quando verrà sistemata questa situazione quindi giustamente i municipi fanno sentire la propria voce i municipi che hanno unito però la propria voce anche ai lavoratori dei municipi che sono in protesta già da settimane l'abbiamo sentito anche dal dal del secretario sindacale che è venuto qua la settimana scorsa Molisse è venuto proprio qua a raccontarcelo la settimana scorsa di come in comune ci sono delle vertenze tra queste quello del blocco degli straordinari perché non perché non abbiano voglia di lavorare giustamente non è quello cioè non è che i dipendenti comunali dei municipi non hanno voglia di lavorare è che continuano ad essere utilizzati nelle orari straordinari senza che ci sia un turnover sugli orari ordinari nel senso che il concetto qual è soprattutto per i consigli municipali i consigli municipali vengono di logica indetti la sera dopo le 18.30 dopo le 19 a volte anche in modo che tutti i consiglieri che non possono fare i consiglieri di lavoro quindi hanno un altro lavoro possano andare in municipio a fare il consiglio municipale ma anche perché così giustamente anche se viene fatto in serata così che anche i cittadini se vogliono partecipare ai consigli municipali possono andarci perché se lo facciamo a mezzogiorno chi ci va? nessuno no? qual è il problema? che se lo fai alle 7 di sera alle 6 e mezza alle 7 e mezza 8 di sera il personale a quel punto deve fare gli straordinari perché non è che hai creato una situazione per cui loro possono lavorare nel turno pomeridiano perché tanto la mattina c'è qualcun altro no perché la mattina non c'è nessuno e allora a quel punto avresti completamente il il comune il municipio soprattutto gli uffici municipali sguarniti di lavoratori insomma la situazione è davvero davvero insostenibile tanto che il municipio 9 è uscito con una lettera indirizzata al comune in cui si chiede di risolvere in fretta celermente questa situazione ma soprattutto si chiede di prendersi carico della questione municipi seriamente cioè i municipi sono la prossimità il decentramento sono soprattutto e nella lettera a questo viene scritto in un momento di disaffezione verso le istituzioni sono l'unico modo per riuscire a riavvicinare la gente tra le istituzioni e invece noi cosa facciamo blocchiamo gli stipendi a chi ci lavora dentro come eletti quindi assessori e presidenti e in più cosa facciamo chiediamo al personale di fare gli straordinari per lavorarci quindi pensate quanto è bello poter lavorare lì in questo periodo quindi insomma la situazione va sicuramente risolta Megalmore can't hold us insieme a Ray Dalton alle 8 e 48 minuti qui su Crystal Radio Good Morning Milano di lunedì 29 aprile prima di salutarci però fatemi salutare a mia volta il nostro amico Angelo Mazzone perché ahimè è finito sul giornale per una brutta storia accaduta qualche giorno fa a Milano leggiamo da Repubblica Milano appunto Pitbull aggredisce Angelo Mazzone fondatore della pagina Facebook Milano Segreta Angelo dice voleva uccidere la mia Yorkshire certi cani sono come un'arma l'episodio raccontato sui social chi non è in grado di denunciare scusate chi non è in grado di deducare il proprio animale non dovrebbe prenderne uno e dice quindi insomma lo racconta lo racconta sui social proprio Angelo Mazzone che sappiamo essere un grande appassionato della nostra città fondatore appunto della pagina Milano Segreta che potete seguire su tutti i social e dove spesso volentieri la protagonista di queste storie di post che vengono postate da Angelo è Deva la sua piccola Yorkshire racconta appunto abbiamo incrociato una coppia sulla Trentina avevano una valigia quindi erano appena arrivati o stavano per prendere il treno stavano chiacchierando e fumando e lei teneva un pitbull al guinzaglio quando io e Deva siamo passati lì accanto un paio di metri di distanza il cane ha dato uno strattone ed è riuscito a liberarsi dal proprietario correndo incontro alla mia Deva ringiando come un orso Mazzone era agito con una prontezza dettata all'istinto sono riuscito a prendere immediatamente in braccio tirandola per il guinzaglio tant'è vero che temeva addirittura di essere stato troppo violento di aver fatto male a Deva se quel pitbull fosse riuscito a prenderla l'avrebbe senz'altro ammazzata infatti non si è placato ma ha iniziato a saltare cercando di arrivare ad Eva mi ha anche morso a un braccio ma fortunatamente indossavo il piumino imbottito e quindi non ho avuto conseguenze non oso immaginare cosa sarebbe potuto accadere se fossi stato ad esempio in t-shirt quindi per fortuna che faceva freddo Angelo cosa si è riuscito a salvare quindi oltre allo spavento appunto e al buco della manica al fondatore mi ha seguito rimasta tanta rabbia per l'accaduto dice quell'uomo si è limitato a riprendere il suo cane afferrandolo per il colare e portandolo via dopo avermi lanciato un'occhiatata come detto neanche una parola dice neanche una parola neanche uno scusi oppure un mi spiace niente così e quindi Angelo insomma ci è rimasto molto male soprattutto perché appunto lo raccontiamo Angelo è uno che gira la città molto spesso anche in bicicletta la porta andeva un po' in giro a scoprire i segreti della città che poi Angelo racconta da Milano segreta vedere scene del genere insomma sicuramente poi insomma fanno spaventare e davvero bisognerebbe incominciare a capire a prescindere dal tipo di cane perché non si può colpevolizzare la razza del cane o il tipo di cane qui semplicemente bisogna educare i padroni che non sono minimamente capaci di gestire qualcosa che può diventare potenzialmente molto pericoloso può essere il cane più buono di questo mondo pacciarotto bellino carino che salta addosso hai i tuoi nipotini e ci gioca leccandoli tranquillamente nel salotto di casa ma può anche diventare qualcosa invece di pericoloso che può morsiccare può anche semplicemente io dico sempre non bisogna arrivare al morso allo sbranamento come è stato in altre situazioni ma basta anche solo far cadere qualcuno in bicicletta far cadere un pedone che un anziano che passa ma anche un pedone qualsiasi che passa di lì e si sente travolto magari da un cane che corre perché ha visto qualcosa di là del parco insomma bisogna saperli gestire sempre di più cani nella città sempre più gente che è capace di gestirli per fortuna però c'è anche chi non è capace quindi insomma bisogna sicuramente educare non tanto i cani quanto i padroni e sulle note della nostra sigla alle 8 e 54 minuti ci salutiamo e ci diamo appuntamento a domani perché è arrivata la fine di questa puntata di Good Morning Milano dopo di noi Ambrogio Curti con Senti Questa che abbiamo già sentito oggi intorno alle 8 nel suo sommario settimanale quindi mi raccomando rimanete collegati perché tanta buona musica arriverà con tante storie raccontate appunto da Ambrogio Curti in Senti Questa alle 9 e 05 più o meno settimana corta ma comunque ci siamo domani poi mercoledì facciamo un po' festa ma poi ci saremo ancora qui giovedì e venerdì per raccontarvi tutto quello che succede nella nostra città voi ricordatevi sempre che potete partecipare alla nostra trasmissione tranquillamente mandando un whatsapp al 331 7853555 quando volete noi siamo qui per raccontarvi rispondere a tutto quello che volete oppure per farvi raccontare a voi quello che volete sulla nostra città buona giornata a tutti buona mattinata con Crystal Radio e con tutto quello che avrete da fare noi ci risentiamo domani dalle 7 alle 9 sempre qui in diretta per una nuova puntata di Good Morning Milano ciao a tutti ciao ciao ciao